PESCIO MISCHIO Mettilo giù Giuseppe Giù Vai tranquillissimo Aspetta un attimo Posso proporre ai fotografi di spostarsi così le telecamere Grazie onorevole Aspetta Fate uscire Abbassatevi però quei microfoni Aspetta 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 Questo governo non ha una politica Seria Questo governo non ha una politica seria Per contrastare l'immigrazione clandestina Penso di fare una riforma Positiva Invece sarà una riforma negativa Non c'è nessuna strategia Per l'integrazione Di chi lavora regolarmente nel nostro paese Non c'è una strategia Per fermare l'immigrazione In Africa Non c'è una strategia Per fare accordi bilaterali Non c'è una strategia Che costringa l'Unione Europea A investire Più di quanto ha investito Fino ad oggi Cambiare delle regole Per rendere più lassista La posizione dell'Italia È un errore grave Lo si fa Mentre ci sarebbero altre cose più importanti Da discutere Pensiamo a tutta l'azione Per rilanciare l'economia Del nostro paese Il motivo per il quale Noi abbiamo votato A favore dello scostamento di bilancio Non mi pare che stia seguendo un impegno Altrettanto forte Da parte della maggioranza Ecco perché siamo qui A insistere Per tutelare le imprese E non per avere una politica lassista Per quanto riguarda l'immigrazione Aiuto A favore davanti Non davanti Non davanti Grazie Ci sta una spigna dietro Ci sta una spigna dietro Ragazzi ditemi voi Come sono sul DPCM Eh vado vado Sul DPCM Centrodestra a compatto settimana scorsa Ha costretto il governo A dare 8 miliardi Alle partite IVA I lavoratori autori I professionisti Il Centrodestra a compatto Oggi È in Parlamento Perché incredibilmente In un giorno In cui ci sono quasi Mille morti di Covid La maggioranza Di cosa parla in Parlamento Di immigrazione Per cancellare i decreti salvini E riaprire i porti Ai clandestini Agli scafisti E i portafogli degli italiani È incredibile Ritirino Questi decreti A favore dei clandestini Parliamo di quello Di cui gli italiani Si stanno preoccupando Salute E lavoro I morti di oggi Ci dicono Che ovviamente La salute viene prima di tutto E quindi gli italiani Continueranno a usare Precauzione Buonsenso Ma Negare il Natale Alle famiglie Ai genitori separati Ai figli lontani da casa Ai disabili E agli anziani soli È una follia Quindi nessuno Pensa ad assembramenti A festoni Di capodanno Con 500 persone Ma chiediamo al governo Di mettersi una mano sul cuore E di non separare gli italiani Di non dividere le famiglie Di non chiudere Milioni di persone sole in casa Quindi il diritto al Natale Sereno Tranquillo In famiglia Per mamma e papà Nonni e bambini È sacro E non si tocca Prima di dividere gli italiani Il governo ci deve pensare Più di una volta Si Sì Grazie 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 Mentre gli imprenditori italiani sono disperati, gli scafisti festeggiano, mentre agli italiani viene impedito anche al Natale di passare da un comune all'altro, agli immigrati si vuole favorire il passaggio da una nazione all'altra e da un continente all'altro, io penso, noi pensiamo che tutto questo sia da cinici, pazzi e irresponsabili. E se il Presidente Conte invece di fare il Presidente del Consiglio degli italiani vuole fare il Presidente del Consiglio degli immigrati, allora si dimetta perché il suo stipendio lo stanno pagando gli italiani e noi che siamo il Parlamento della Repubblica Italiana oggi non vogliamo stare a discutere di immigrazione, noi vogliamo stare a discutere dei problemi degli italiani, è intollerabile che mentre noi parliamo dei decreti in sicurezza di Conte, lui vada su Facebook a dire che cosa gli italiani potranno o non potranno fare a Natale. E' nel Parlamento della Repubblica Italiana che lo deve venire a dire, perché noi di questo ci vogliamo occupare e non di altro come piace fare invece alla sinistra.